all'ingresso troviamo il famedio detto anche tempio della fama qui riposano personaggi illustri come alessandro manzoni e giuseppe verdi per l'altissimo valore artistico delle sculture e delle opere presenti al suo interno il cimitero monumentale viene considerato un vero e proprio museo all'aperto una curiosità la scultura in bronzo dedicata alla famiglia campari è stata ironicamente ribattezzata dai milanesi l'ultimo aperitivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti